Come è l'opportunità per le aziende? Attivo o non attivo, metterli in valore, genera posti di lavoro, cioè se organizziamo delle visite possono abilitarsi delle guide che fanno i servizi, perché questo lo parleremo dopo. Il pomeriggio o forse domani ne parleremo. Chi può spiegare meglio le aziende è sempre alcuno dell'azienda. Ma alcune volte se c'è molta domanda di visite forse non potremo noi fare le visite. E' ancora un'altra cosa, forse non abbiamo abilità idiomatiche, non parliamo se vengono i russi, se vengono americani, non so. Ma è una possibilità pensare a fare un elenco di guidi che si preparano, che conoscono bene, si fanno un'immersione nell'azienda e poi possono fare le visite. Ciò vuol dire che l'imprenditore non ha l'imprenditore di andare a fare, attendere tutte le visite, soltanto quelle che gli interessano. Allora, posti di lavoro possono escire a partire di qua. Generano attività turistica in luoghi non turistichi. In posti non turistici apparescono subito queste attività turistiche. Ci sono città industriali, forse, che non sono viste come destinazioni turistiche, ma con le visite impressi di pronto escono questi risorsi turistici, questi prodotti turistici che non c'era prima in quella città. Allora, appariscono sul mappa destinazioni turistiche che prima non c'erano. Permette di mostrare il tessuto produttivo e promuovere aziende locali. Questa è una forma di rinforzare, di mostrare, di mettersi nel mappa, di posizionare la località. Grazie alle loro aziende, le aziende che sono nel suo territorio, ci permette, attraverso della comunicazione turistica, negli pacchi turistici e eccetera, permette un posizionamento, un riconoscimento della città e della loro attività. Nuova e diversificata offerta nelle destinazioni turistiche. Ciò vuol dire che, per esempio, ci sono destinazioni turistiche che possono offrire turismo di spiaggia, di sole, di spiaggia, ma questo è un valore aggiunto nell'offerta turistica che mostrano, come può essere anche fare visite ai monumenti o concerti, anche quest'altra attività. Per esempio, nei giorni quando piove, non andiamo né spiaggia, possiamo fare le visite alle aziende. E, per la sera andiamo a spiaggia, la mattina e il pomeriggio andiamo a visitare le aziende. E anche, è un'alternativa per la stazionalità turistica. Ciò vuol dire che forse c'è una destinazione di turismo di spiaggia, ma questo soltanto sono tre mesi. Allora, gli altri nove mesi cosa facciamo? Allora, questa è un'offerta che permette la desestazionalizzazione della temporata turistica. Anche, è un'opportunità per il settore turistico. Perché? Perché, di pronto, appariscono nuovi prodotti turistici che possiamo vendere ai nostri clienti. Abbiamo una cartiera con nuovi prodotti per offrire ai nostri visitatori, ai nostri clienti. Appariscono nuove destinazioni che prima non c'erano. E, permette, se abbiamo questo attrattivo turistico di primo ordine, è buono che abbia anche di oltre livelli, altre offerte turistiche. E questo permette questo. Nuove nicchie di mercato, ciò vuol dire che possiamo attirare altri clienti, possiamo guadagnare un altro target di turisti, diversi di quello che lavoriamo. Abbiamo un turismo che fa un turismo di spiaggia, ma adesso anche possiamo attirare un altro target di turista. Perciò sono nuove nicchie di mercato. E, finalmente, può permettere l'apparizione di nuove imprese specializzate, come Neopat, per esempio. Allora, permette, nuove imprese che fanno agenzie specializzate, di formazione per le aziende per come organizzare visite, di gestire queste visite, dei servizi di guide e cc. Pertanto, questi sono tre ambiti. Le aziende, il territorio e il settore turistico. Adesso vediamo, non tutto è buono, tutto è bello, ma ci sono problemi, devono cercarsi soluzioni. Quali sono le barriere alla commercializzazione del turismo industriale? La prima, il nome. Turismo industriale. Questo sembra un contrasentito, si dice? Una contraddizione. Turismo è industriale. La parola industriale, veramente, deve essere soltanto per il settore, per noi, tra di noi, capire di quello che parliamo. Ma non è, sta bene che il nome, poco a poco, la gente sappia di cosa parliamo. Ma non è per vendere così, penso io. Il turismo industriale, noi, la parola industriale, non lo assimiliamo a una cosa divertente, una cosa ludica. Pensiamo, lo pensiamo, industriale, nel lavoro, nell'inquinamento, nel guadagnare il pane con il sudore. Allora, il nome è un ostacolo. Allora, quando si vende il turismo industriale, deve mettersi in un marchio. Perché non è soltanto, l'azienda non è propriamente un prodotto turistico, è una risorsa turistica, un risorso. Poi faremo il prodotto. È da persona o bene inserita in un prodotto più ricco. E poi il nome, allora, per esempio, per me è molto meglio, tu non conosci il sud. Perché, insomma, in più ancora è non solo un richiamo, è anche una sfida. È una sfida. Tu non conosci il sud. Allora, cosa mostriamo? Mostriamo il territorio, mostriamo cosa che fa la gente che abita nel Salento o nel territorio che sia. Allora, turismo industriale è un concetto di lavoro per noi e per la necessità che abbiamo di sempre mettere in ogni buco le cose, no? Per organizzare, per i professionisti. Poco a poco, forse, come è diventato con il turismo rurale, vent'anni fa nessuno sapeva cosa parliamo, adesso tutti sappiamo cosa è il turismo rurale. Turismo industriale, forse, entro 15 anni, la gente saprà di che parliamo. Ma adesso non è un nome che vende, non è un marchio buono per vendere. Questo è importante. Dobbiamo fare l'arte del lavoro, cercare la poesia che attiri la curiosità e la vicinanza del pubblico. Turismo industriale io non raccomando come una marchio per attirare. Ma deve darsi conoscere anche, sono due cose parecchie. La mancanza di posizionamento, beh, siamo all'inizio, beh, il turismo industriale se ne ha fatto sempre. Infatto, quello che ha dato nome al turismo è il Grand Tour del secolo XVI-XVII, dove i figli di grandi aristocrati viaggiavano per conoscere, ma lo scopo non era soltanto l'arte, era vedere quello, la ricchezza del territorio, la produttività. Lì, ad avanti, gli scoprimenti tecnici, la tecnologia, la modernità, la industrializzazione. Questo era lo scopo principale di fare il tour, che ha dato nome al turismo. Quindi, ma, come il turismo industriale non è stato. Tutti siamo andati in cantina, in Catalogna, da sempre, da due secoli fa, la gente è andata ad andare come si fa il cava, lo spumante. Ti spiegavano come si faceva il vino spumante, con quello di un quarto di volta della bottiglia, ogni giorno, e poi si mangiava là, si mangiava, e poi acquistavi una cassa di bottiglie. Questo è il turismo industriale, ma non sapevamo che facevamo turismo industriale, no? Allora, mancanza di posizionamento. È incipiente ancora come risorsa ogni volta più tenuta in conto. La visita impresa come una risorsa turistica ogni volta le politici. Per esempio, due anni fa, il Consiglio d'Europa è uscito un bando, per la creazione di prodotti di turismo industriale, dall'anno scorso e quest'anno è la seconda edizione. Poco a poco. Perché? Perché se hanno reso conto che è molto potente messere insieme il tessuto produttivo con il turismo, che è un'attività economica del primo ordine e che va, e che va, è delle poche cose che vanno. La gente vuole viaggiare, vuole conoscere, vuole... Allora è molto interessante mettere insieme turismo, industria o attività produttiva. L'ubicazione di alcune risorse. Beh, ci sono alcune aziende che sono ubicate dove non ci sono... Perché quando si è fatto quell'attività produttiva, per la naturalezza dell'attività, non poteva essere in un altro posto nel centro città o forse non è tanto accessibile. Gli interessi non corrispondenti. Può passare che gli interessi del settore, dell'offerta, non siano gli stessi degli imprenditori, degli proprietari dell'azienda. La titolarità. Quando il proprietario è, per esempio, una impresa pubblica, è un handicap veramente importante. Perché per burocrazia, soprattutto, è molto difficile. Per esempio, per fare come siamo abituati alle tasse pubbliche, prezzi pubbliche, pubblici, tasse e cc. Allora, la titolarità, quando è amministrazione pubblica, a volte è un handicap importante. La legislazione. La legislazione. Quando stiamo parlando del settore, per esempio, agroalimentario o della sanità, la legislazione è molto restrittiva. Allora, questo sì, deve farsi molta attenzione a questo punto. Perché la legislazione, per esempio, quando un'azienda vuole aprire le porte, ci sono alcune legislazioni, per esempio, di allevamento di animali, dove non permette l'entrata, o il registro dei visitatori è molto stricta, o le condizioni sanitarie devono aversi in conto, oppure la sicurezza dei visitatori. Allora, vuol dire fare, lo vedremo nel pomeriggio, adeguare il plan d'emergenza. Ecco, perché forse il percorso che faranno i visitatori per non interrompere la produzione devono fare un giro diverso. Allora, forse, la uscita di emergenza non è possibile per i visitatori. Allora, devono avere, deve farsi un'informazione per i visitatori. La pomeriggio lo vedremo. Vediamo, per esempio, qui abbiamo la stampa, che fa la visita della stampa a Torino, e quello che fa è dare adeguato per i visitatori, quello che ti danno all'arrivata. Questo è il piano d'emergenza, in caso d'emergenza, condizioni che si deve avere in conto. Ma tutto è possibile, se lo sappiamo. Problema, soluzione. I giorni e orari di apertura. Ah, sì. I turisti, quando viaggiano, i turisti, non sempre viaggiano, allora abbiamo un problema, se tu vai per vedere come si fa quel prodotto, tutto è fermato, si è chiuso, già non parliamo, ma se è fermato non vedi veramente il prodotto. Ma ci sono le tecnologie, possiamo fare un video del processo e poi fai il giro e vedi la macchina che tu sai ah, qui è dove si faceva quel processo, quella parte del processo. Dici sì, eh? Ma questo si deve solitare tutto. E i prezzi? I prezzi? Dobbiamo pensare, valutare bene i prezzi che noi offriamo. Io penso che sempre deve avere un prezzo. sempre. Sì, possono farsi gratuite, forse, per esempio, a volte sono soluzioni per le industrie che sono pubbliche, sono pubbliche, eh? Non ha problema. Ma io raccomando sempre di fare un prezzo, ne sia simbolico, eh? Che poi tu puoi compensare, perché tu sai che l'investimento, se tu sei il primo interessato, come imprenditore, sei il primo interessato che vengono. Allora, il prezzo non deve essere una barriera. Ma quello che è gratuito non si valuta dello stesso modo. E dobbiamo pensare, noi stiamo offrendo un'attività, un'attività, un servizio e la gente sa chi deve pagare. Non è un monumento, non è un museo. Il prezzo del biglietto per entrare nel museo non è lo stesso, ma deve avere un prezzo, sebbene poi tu puoi compensarlo con il souvenir dimmi. Dal punto di vista legale dell'azienda che potrebbe avere una valuta che vuole di un'azienda, quel prezzo o quei soldi che è tra l'azienda non si fa di un'azienda, nero? Ah no, nero mai. Io l'azienda che ho un dirgitizio, sto progetto e lo chiede e vuole far entrare nei turisti. Sì. E poi non si devono pagare per poter entrare. Sì. No, perché sono servizi di promozione che tu fai. È un'attività promozionale. nella branca del servizio di promozione. Non hai una borsa, una partita, come si dice? Una partita IVA, sì. No, una partita IVA, no. Un preventivo, una parte per pubblicità, per comunicazioni. Sì. Ma va in questo conto di promozione. Allora, tu puoi fare che il saldo sia zero. Perché poi è la uscita per l'altra parte ma da quello che tu ricevi e quello che tu dai zero. Ma in mezzo c'è una promozione, una comunicazione brutale. Che quello è lo scopo. e poi questo è quello importante. Se tu vuoi arrivare al turista devi pensare nei mezzi, nei canali di vendita. Ciò vuol dire neopat, quelli che gestionano, nelle agenzie di turismo o altri canali vedremo l'ultimo giorno è sicuro, Riccardo parlerà anche sicuro di questo, ma ci sono i pacchi, quello cofannetto regali che sono veramente interessanti. Senti, guarda, tu hai un prezzo e poi tu sempre hai la decisione di cobrarlo o non cobrarlo. Capisci? Il turista se tu vedi nella tua site web il prezzo della visita 5 euro e sa che questa visita costa 5 euro. Se io vado con un'agenzia di viaggio sono 5 euro, 5 euro, sumo l'albergo, il pullman, l'ingresso nell'azienda, il museo, bla 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 e se vedo che mi va meglio che andare da solo il prezzo è conveniente e questi 5 euro tu puoi non comprare all'agenzia di viaggio perché tu ti porta quello che vuole il turista. Tu hai un prezzo alla vista poi secondo il caso tu puoi domandare questo prezzo o domandare la metà o non domandare nulla. Capisci? sì. Sì. vince di viaggio alcune volte quando fai l'interligazione tra i turisti e le aziende non c'è però un altro elemento fondamentale che si occupa del servizio di qualità del turista di genere. Il turista di gioco si occupa a fare il pacchetto e dire con 30 euro tu vai all'albergo Monte Cassini per esempio e alloggerai, avrai questo, questo e questo e poi ci darà la cita alle ore torse per non pianificano mai però un piano perfetto non danno mai un piano perfetto al turista da là alla z no, si il pacco, si ma il turista il turista si, si ma il turista quando decide di acquistare il pacco turistico dell'agenzia, si ha visto quello che visiterà adesso per internet tu lo vedi andremo a visitare domani un'azienda io ho fatto l'indagine ho visto cosa andremo a visitare, perché è il primo passo per prendere la decisione no? se non mi interessa non lo prendo allora se ho visto io anche ho visto il prezzo di questa visita ma il prezzo la consapevolezza del fatto che il turista viene guarda l'agenzia si sa però secondo me la cosa importante che dovremmo curare e imparare tutti nella buce nel serenzi è la qualità che diamo al turista per farci che possa ritornare ah no questo lo parleremo questo è importantissimo no 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 siete basicamente lo mio scopo lo mio scopo questi giorni è spiegare come deve organizzarsi la visita è veramente questo è è chiave questo è è basico la qualità vedremo come deve organizzarsi i concetti che devono deviamo fare gli imprenditori le aziende quello che devono avere molto chiaro perché il turista sempre domanda qualità sempre allora tu il prezzo adesso stiamo parlando soltanto del prezzo il prezzo è importante prima perché quello che non si paga quello che è gratuito non si valuta tanto secondo perché forse hai bisogno di recuperare una parte di attraverso delle visite una parte di soldi per rinvertire nelle visite meglio sempre così meglio da metterle in tasca o no possiamo dire no quello che ingressiamo per visite lo mettiamo per migliorare la visita introducendo dei nuovi attrattivi nella visita e insomma è importante per negoziare perché se no come arriviamo ai turisti se vogliamo arrivare ai turisti ci sono i canali che muovono i turisti allora questi canali devono questo è il suo negozio il suo business allora dobbiamo avere un prezzo un'altra cosa è che noi quando ci interessa riflutiamo di domandarlo o forse un mezzo per negoziare con le agenzie di viaggio per ogni dieci persone tre sono gratuite ci sono politici è un un no un strumento un strumento è un strumento per negoziare che ci dà un margine di maniobrabilità molto importante il prezzo l'offerta complessiva per il tempo libero beh stiamo parlando di barriere allora c'è una una offerta tantissimo grande non soltanto turistico se no il cinema lo sport ci sono molte offerte no le mancanze come prodotto turistico quello siamo quello che parliamo la qualità ma non soltanto la qualità l'attrattività dobbiamo pensare a fare un prodotto attrattivo seduttore per il cliente per il turista allora forse la nostra azienda da sola non è abbastanza attrattiva perché per esempio se siamo un'azienda che facciamo un componente che forma parte di un prodotto finale da che è quello che la gente è più attratta di vedere dobbiamo pensare come ci vincolare il nostro parte del lavoro il nostro prodotto l'importanza mettere in valore questa parte del nostro lavoro per arrivare il pubblico finale acquistare quel prodotto o godere di quel prodotto che ha l'immagine finale mancata integrazione nell'offerta turistica questo è importante non abbastanza avere fatto organizzare una bella visita nella nostra azienda è molto importante capire che deve essere inserita insieme all'offerta turistica perché chi compra il pacco di viaggio compra il congiunto lo compra tutto insieme allora deve integrarsi nell'offerta turistica generale e l'ignoranza del settore turistico beh questo è quello che abbiamo detto è normale gli imprenditori che hanno un'azienda non è il suo terreno non è il suo ambito di lavoro e quindi non hanno non sanno come fare allora questo non deve mai essere una barriera dello stesso modo che qualsiasi azienda per elaborare il suo prodotto cerca i professionisti adeguati per fabbricare il suo prodotto elaborare il suo prodotto è lo stesso stiamo facendo un altro prodotto un prodotto turistico un servizio e allora cerchiamo chi può aiutarci o ci formiamo o cerchiamo alcuno che faccia questo lavoro e poi i gestori che non sono preparati questo può passare non sono preparati perché non hanno abilità comunicativa allora non c'è problema per esempio noi facciamo corsi di due giorni per dare un'idea basica perché quella persona gli imprenditori sono chi possono spiegare meglio la loro azienda la sua azienda ma forse non hanno non sanno come devono ricevere l'arrivata non sanno come devono cosa devono sempre mettere nel discorso non sanno come comunicare allora questo è facile due giorni e allora dopo si sentono sicuri di mettersi avanti i visitatori e parlare questo è una possibilità l'altra è che non sono preparati come gestire idiomaticamente per esempio non parlano idioma ma abbiamo visto che questo si solventa perché possiamo prendere una guida che parla quell'idioma fa un'immersione spieghiamo noi come il processo e quando viene il gruppo la guida fa la visita e se ci sono domande l'imprenditore all'inizio e alla fine della visita riceve e si 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 alla fine quando vai ciao si saluta alla fine anche della visita e quelle domande che hanno fatto i turisti e i visitatori durante il percorso della visita alla fine risponde quello che la guida forse non sa rispondere questo è importante tutte le domande che si fanno durante la visita i turisti i visitatori si devono rispondere e se non si possono rispondere nello stesso momento si rispondono alla fine della visita oppure si chiede se voglio dare un indirizzo di mail o lo che sia e se gli manda la risposta alla domanda che ha fatto questo è molto ringraziato per la persona che ha fatto la domanda che gli arriva dopo due giorni la risposta oh bravissimo che servizio tanto buono buonissimo sì è quello che abbiamo detto è quello che abbiamo detto con la data base quando parliamo del feedback ti permette questo avere per fare e tu puoi segnare due marchi una per avere se voglio lasciare la sua data per un registro l'altra si vuole ricevere promozioni ecc ecc speciali per la gente che sono arrivati all'impresa e fare sondaggi ecc sempre avendo conto della legislazione e la protezione dei dati bene adesso qui parliamo secondo Mader ci sono otto categorie diverse di aziende per il turismo d'impresa lui parla di queste categorie io ne ho visto d'altri prodotti rappresentativi della regione carbone energia la regione tedesca del Ruhr il porto e tutto quello che fa rimento a Rotterdam la produzione di formaggio a gouda caffè i banane in Guatemala cioè quello che abbiamo detto quello che il turista nel suo immaginario casa perfettamente c'è una corrispondenza tra l'offerta della visita impresa con la destinazione turistica questo è il primo gruppo forma parte dell'offerta logica naturale della regione prodotti di marchi noti quello che si vendono per il marchio come abbiamo detto frescenet o cars visitare la fabbrica della Peugeot o la Mercedes o la BMW in Monique o a Wolfsburg la Volkswagen sono marche Ferrari sono marche che Fiat che siano molto potenti e se andiamo a Torino visitare Fiat è una possibilità prodotti sportivi birra bini e cc sono prodotti di marchi noti prodotti di consumo limonata birra cioccolato quello che è abituale tra noi che abbiamo la cosa quello che quotidiana quello quotidiano sta bene quello che non abbiamo messo caso parato contone in quello adesso posso vedere come si fa prodotti di lusso quello sempre è una possibilità di quello che tu non puoi forse avere vederlo di circa e sapere perché è tanto caro questo perché è tanto caro orologi costosi diamanti gioiali profumi cars un'altra volta beni tecnologici cars ancora computer cellulari smart audio fitecnologie prodotti e servizi di speciale interesse energia acqua trasporti teatri la visita di un backstage del teatro vedere il teatro dietro settore farmaceutico la scienza questi settori e infine i prodotti artigianali richiesti vetro porcellana questi prodotti artigianali queste sono le otto categorie che lui ha proposto gelbert sottolinea un'altra categoria un tanto attrattiva l'industria alimentare e della vivite che differenzia dei prodotti artigianali per esempio l'industria alimentare può non essere artigianale ma anche attira al pubblico l'industria alimentare di per sé può essere una grande produzione non bisogna essere artigianale e io ancora qui sono d'accordo in questa dicione ma io penso che c'è ancora un'altra categoria no che sono prodotti tipici sarebbe quello che sarebbe in alcuna di queste categorie sarebbe quello che diciamo formaggio svigera cioccolato latte formaggio va con la destinazione ma prodotto tipico quello che ci riporta un'esperienza personale per esempio prodotti che noi abbiamo dalla nostra quando siamo bambini un prodotto della nostalgia l'esperienza vitale di ciascuno il prodotto quel prodotto vincolato all'esperienza personale di ciascuno forse a te non ti attira nulla a te nemmeno ma per me è molto attrattivo seduttore vedere come si fa quello che io da bambino quella esperienza propria vitale ho vissuto perché è vincolato con la mia esperienza personale questo sarebbe e probabilmente il prodotto sarebbe anche entro queste categorie probabilmente ma per me questa è una categoria molto importante quello che è vincolato con l'esperienza propria di ciascuno con il ciclo vitale di ciascuno bene qui vediamo in 2006 Piumans ha fatto questa selezione di United Kingdom il Giappone e Stati Uniti queste aziende che sono hanno visitato vediamo Carburi che è come un Euro Disney è veramente un'attrazione un parco tematico molto interessante Toyota Motor vediamo che il tema dei cars le macchine escono varie volte per diverse categorie non so perché soprattutto per gli uomini i cars sono seduttori è bene dimmi a me viene in mente Google so che Google conoscono queste persone che sono attenti parla Google è un codice non c'è niente da vedere però è un nuovo simbolo della nuova che è in versione del lavoro non ci sono le schimanie non ci sono di rarmi non ci sono di rarmi è vero questo è simile non c'è il prodotto non è tangibile non è tangibile sebbene è un prodotto che sarebbe nella categoria delle nuove tecnologie ma non è un prodotto tangibile è un'organizzazione come tu hai detto è molto interessante bene tutto il turismo industriale sempre dietro di là c'è come l'organizzazione ma ci sono alcuni come questo caso molto interessanti ben trovato che l'organizzazione in sé è quello che è ancora una cosa meglio perché siamo abituati ogni giorno vediamo il google ma chi c'è dietro di google ci sono persone sempre ci sono persone allora è molto interessante pensare andiamo a vedere per esempio prima vi ho parlato del centro di disegno di mango la marca mango di tessuto è interessantissimo vedere il centro di disegno la non vedi disegni e l'organizzazione della visita vedere il concetto di lavorare è lo stesso che google ci sono giocare come si dice il football in il calcio di un'esercizio di un'esercizio Grazie a tutti